Benvenuti amici di Juventus News 24, obiettivo minimo raggiunto ma impossibile accontentarsi, questo è chiaro. Allora, la vittoria contro il Venezia ha dato alla Juve la qualificazione matematica alla prossima Champions, anche perché il Bologna ha bloccato la Roma e quindi di fatto adesso la Juventus è sicura di giocare in Champions la prossima stagione. Questo è l'obiettivo minimo di una stagione iniziata in maniera molto molto complicata, a un certo punto si temeva fosse in discussione pure il quarto posto, in questo momento invece la Juve il quarto posto ce l'ha in tasca e può iniziare a pensare anche al terzo, perché c'è il Napoli, un Napoli che al netto della vittoria importante contro il Sassuolo ha dimostrato dei passaggi a vuoto nelle ultime settimane, allora dovrà essere brava la Juve, approfittare da cui fino alla fine provare a giocarsi le sue chance per cercare di rosicchiare qualcosa al Napoli e provare a lottare per un terzo posto che qualche mese fa sembrava quasi un obiettivo insperato. Detto questo rimane una stagione al momento, al di sotto delle aspettative, neanche l'eventuale vittoria in finale Coppa Italia contro l'Inter può spostare così tanto il giudizio. E' chiaro che in qualche misura sì, però rimane una stagione al di sotto delle aspettative, una stagione corretta in corsa da Massimiliano Allegri, anche dal mercato, perché chiaramente l'arrivo di Vlaovic, e ne parleremo a breve, con l'arrivo di Vlaovic qualcosa è cambiato là davanti, ce n'era veramente bisogno, ma rimane una stagione in cui la Juventus ha dato l'impressione dall'inizio alla fine di non aver dato tutto, che avrebbe potuto dare qualcosa in più. Lo dimostrano anche le squadre che sono davanti, il Milan, l'Inter e anche il Napoli, non hanno fatto un filotto, non hanno avuto un andamento così lineare, nessuno è riuscito a strappare, a staccare le altre, e questo aumenta ancora di più un rammarico per una stagione che poteva essere sicuramente diversa in termini di trofei e risultati, con qualche correttivo in più, magari con qualche punto in più nelle prime partite, partite in cui la Juve ha faticato e ha perso punti sanguinosi contro avversari di basso e di medio livello. Quindi, la corsa al Napoli al terzo posto si può fare, rimane in ballo la Coppa Italia, rimane anche aperto il dibattito sull'eventuale giudizio rispetto alla Juve dell'anno scorso di Pirlo, sono difficili da paragonare le due stagioni, i due allenatori, però è chiaro che ci si può anche scatenare, scatenare, scriveteci, se secondo voi diciamo che si può considerare migliore la stagione di Pirlo a livello di trofei sì, però a livello di crescita forse no, è invece quella di Allegri, priva di Cristiano Ronaldo, nonostante questo, insomma, una Juve che ha ottenuto il quarto posto minimo con qualche turno di anticipo, mentre quella di Pirlo se l'è sudato fino all'ultimo. La Juve vince ma continua a non entusiasmare, questa è un po' la costante stagionale, una Juve che spesso e volentieri non chiude le partite, è una Juve che spesso e volentieri vince di corto muso, è una Juve difficilmente trascinante, l'abbiamo visto in poche partite, è una Juve entusiasmante che si diverte, che gioca bene, poco. È una Juve che però bada al concreto, vince contro il Venezia, anche qua è giusto anche spendere una parola sul fatto che una squadra come la Juve contro il Venezia chiaramente dovrebbe riuscire a chiudere prima la partita, dovrebbe riuscire a soffrire meno, dovrebbe riuscire anche a far vedere qualcosa in più rispetto al gol di vantaggio, l'unico gol di vantaggio che poi porta al novantesimo. L'emblema un po' di questo corto muso, di questa Juve che punta molto al concreto e poco allo spettacolo è la sostituzione che ha fatto anche divertire dei commentatori polacchi che l'hanno presa bene, molto bene. Nel finale esce Vlaovic, entra Chiellini, e questo è un po' l'emblema di quel che succede nelle ultime settimane, Chiellini capitano, over trentenne abbondante per andare a blindare un 2-1 contro il Venezia. Parleremo anche di Vlaovic, perché è uno dei fattori di queste ultime settimane, non solo della partita contro il Venezia, ma un Vlaovic che sembra un pochino in difficoltà, non in crisi assolutamente, ma un pochino più in difficoltà magari rispetto a quello che si aspettava. Lui è un ragazzo che ha aspettative sempre molto alte per se stesso e per la squadra in cui gioca, lo faceva alla Fiorentina e le cose non sono cambiate. Certo è che il peso della maglia della Juventus è ben diverso, e anche il modo di giocare della Juve cambia radicalmente rispetto a quello della Fiorentina. Rimane al centro dell'attacco, ma diciamo che la Juve gioca in modo diverso rispetto alla Fiorentina, lo serve meno e probabilmente fa fatica un po' di più Vlaovic a dimostrarsi protagonista, a incidere. Lo ha fatto nelle ultime partite. Un fattore determinante è l'assenza di Quadrado, perché un giocatore come Quadrado è sicuramente un giocatore che mette gli attaccanti nelle migliori condizioni per cercare di fare la differenza. E il fatto che Vlaovic e Morata stiano facendo fatica ultimamente, probabilmente si può leggere anche con l'assenza di quel giocatore che molto spesso salta l'uomo, molto spesso mette quei cross interessanti, o anche quelle palle mezze sporche che poi diventano preda degli attaccanti. E quindi anche così si può spiegare questo periodo un po' complicato degli attaccanti della Juventus, Vlaovic e Morata. Ci pensa Bonucci nel giorno del suo compleanno a risolverla con una grande doppietta. Parleremo anche di Miretti, tra l'altro se volete sentire le sue parole vi lascio il link in descrizione, ha parlato in Mixon dopo partita, un ragazzo molto maturo in campo, ma è anche ai microfoni. Prima però le parole di Massimiliano Allegri, che alla fine della partita si lascia andare con probabilmente una battuta, ma che si può leggere in diversi modi. Lui ha detto di fatto che se la Juve fosse passata col Villareal, avrebbe rischiato di lasciare dei punti importanti per il quarto posto. Cioè il fatto che la Juve sia uscita dalla Champions, diciamo che ha consolidato il campionato. Questo è innegabile, anche perché ultimamente la Juve è stata colpita da infortuni in tutti i reparti, in particolare a centro campo, e il fatto di potersi concentrare soltanto su una competizione, in realtà due con le semifinali di Coppa Italia, però diciamo che è un po' di settimane che la Juve si può concentrare in pianta stabile sul campionato, diciamo che ha ridotto le possibilità di distrarsi. È chiaro che dovendo giocare eventualmente poi la Champions, le energie sarebbero state dissipate su due competizioni importanti, e quindi con così tanti giocatori fermi, tra infermeria, infortuni lunghi, medi o lievi, comunque sarebbe stata una difficoltà per Allegri cercare di mettere in campo sempre una formazione a livello. È un po' una provocazione quella di Allegri, però spiega un po' l'attualità juventina, un'attualità condizionata enormemente dagli infortuni, primi dei quali quelli dei lungodegenti, Chiesa, Imecchenni, lo stesso Locatelli, lo stesso Quadrato, sono quattro titolari fissi che in questo momento sono venuti a mancare a Max Allegri. Non ci siamo dimenticati di Bonucci, non ci siamo dimenticati nemmeno di Fabio Miretti, un giocatore da tenere d'occhio, un giocatore che non sarà il predestinato, l'uomo della provvidenza juventina, ma è un giocatore solido, è un giocatore che ha la testa, è un giocatore che ha dimostrato di avere anche i piedi e la personalità. Questo è un punto un po' fondamentale, perché senza personalità è difficile giocare in una squadra come la Juventus. Miretti ha fatto una grande partita, soprattutto per essere la prima al debutto dal primo minuto, ha chiesto il pallone, ha fatto anche la differenza in più di un'occasione, mai timido, si è proposto spesso e volentieri, cioè ha fatto esattamente quello che secondo me voleva da lui Allegri. Questo è sicuramente un'ottima indicazione sia per l'Under 23 ma anche per il futuro, vedremo se poi quale sarà il suo futuro a giugno, ma è un giocatore di cui si parla un gran che bene da quando è arrivato la Juventus, insomma ha fatto tutti gli step nelle giovanili fino a conquistarsi la prima squadra ed è anche un segnale importante per gli altri giovani che stanno crescendo nel settore giovanile della Juventus, dalla primavera ma anche prima fino all'Under 23, il fatto che prima o poi se uno ha la testa, se uno ha i piedi ma anche la giusta personalità si può arrivare in prima squadra. Quindi in bocca al lupo a Fabio Miretti, speriamo di vederlo presto ancora in prima squadra, magari lui e anche altri suoi compagni. Queste sono le ultime analisi di Juventus Venezia, mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto e seguiteci su juventusnews24.com, c'è anche l'app gratuita. Ciao!